Pollo Facile Il pollo si serve intero Con il dorso sul piatto Me lo taglia? Prego Prima cosa tengo il pollo fermo con la lama del coltello Infilzata sotto l'ala e stacco la coscia Poi incido la carne lungo la carena dello sterno Via ali e petto, via la pelle Aragosta Facilissimo zio Allora, aragosta, aragosta Infilzo l'ala sotto la coscia Via la coscia, stacco l'aragosta L'aragosta è un crostaceo L'aragosta è un crostaceo Via la crosta Del crostaceo Via la crosta E via le antenne Che mangiamo? Le antenne dell'aragosta Via l'antenne, via l'aragosta A questo punto non c'è più niente L'aragosta l'abbiamo finita Però abbiamo un pollo buonissimo, vuole il pollo? L'aragosta non me la ricordo L'aragosta si serve così Come esce dalla cucina, non bisogna toccarla E' troppo facile per questo non me la ricordavo Perché le cose facili sono un po' saltate Comportamento L'attesa, fermo così Cameriere, si Ritorno, comportamento d'attesa Cameriere, si Ritorno Cameriere, si Ritorno Vabbè ma che chiamano tutti i mezzi Ci saranno altri camerieri Che sono solo Il inchino Inchino facilissimo Allora l'inchino Ci si inchina Giù Si va giù Così Di 45 È come una bottiglia di champagne Di 45 Anche 50 55 90 gradi Angolo retto Ma quanto ci si inchina? 180 gradi Così Guarda i girasoli Si inchinano al sole Ma se ne vedi qualcuno Che è inchinato un po' troppo Significa che è morto Tu stai servendo però Non sei un servo Servire È l'arte suprema Dio È il primo servitore Dio serve gli uomini Ma non è servo degli uomini Qui si Un bottone non c'era Il bottone qua non ci vuole Stupidotto Dio